ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi andiamo a sperimentare gli stampi scelti dal sito di beat park è appunto un video collaborazione di resina questo è lo stampo che voglio testare con voi questo è il codice e questo è lo stampino di un portacandele a forma di ninfea davvero molto molto carino rieccomi per questa occasione ho deciso di utilizzare la resina della rischimica la fil bianco ed è questa qui perdonatemi ed eccolo qui è la resina poliuretanica che catalizza appunto in 20 minuti della reschimica ho deciso di utilizzare questa resina qui perché ho pensato che siccome questo questo stampo è bello alto quasi 5 centimetri e la resina quella lì che utilizzo sempre cioè la resina della resina pro epossilica va bene soltanto per colate in spessore fino a due centimetri quindi onde evitare problemi e onde evitare lunghe attese ho deciso di utilizzare questa qui della reschimica la poliuretanica in modo da da far catalizzare il portacandele velocemente ho deciso anche di fare questo portacandele in tre nuance quindi partendo da un bianco con i glitterini al limite aggiungendo un po di un po di glitter all'interno e poi di realizzare un colore un rosa tenue sempre ovviamente utilizzando la fil bianco basterà aggiungere alla fil bianco una goccina di queste qui che sono le la resina altra rischimica ed è un colorante bello coprente vedete c'è scritto qui è bello coprente quindi basterà con basterà soltanto una goccina compreso con lo stuzzicadente per andare a realizzare un rosa tenue mischiato ovviamente alla fil bianco e poi per fare la terza sfumatura andrò a realizzare un rosa un po più forte un po più acceso e quindi andrò ad aggiungere due goccine di questo qui quindi adesso iniziamo con preparare la il primo strato ovviamente bianco glitterato allora verso per prima il componente a il rapporto di uno a uno quindi vado a versare ok 13 ok 13 di a poi aggiungo all'interno un po di pigmento questo qui per artisti e qualche glitterino e ovviamente vado ad inserire 13 grammi di b do una rapita mescolata prima che si catalizzi il tutto perché il bicchierino già è bello caldo non è venuto un bianco e più la sorta di giallino non so se rende anche in videocamera comunque prima che sia troppo tardi vado a versare questo all'interno dello stampo ok e adesso vado a realizzare la nuance rosa questo è il colore adesso vado a versarlo vado a realizzare anche l'ultimo strato devo aggiungere il pigmento rosso 1 2 3 vado ad inserire il componente b rieccomi la resina poliuretanica si è catalizzata non riesco a capire perché ha fatto questa sorta di reazione su magari l'ultimo colore che ho realizzato questa sorta di rosa acceso ho aggiunto troppo pigmento e quindi ha fatto questa sorta di ha fatto questa sorta di di reazione e sicuramente è stato un mirrore e credo che la andrò a utilizzare anche nel secondo video in collaborazione con beat park e poi non la ricomprerò mai più perché non ho un buon rapporto con questa resina con questa fil bianco la resina poliuretanica andrò a utilizzare sempre quella epossilica ormai è più di un anno che utilizzo l'epossilica non mi sono mai successe queste cose quindi per me la poliuretanica no no grazie adesso andiamo a vedere cosa è successo se questa sorta di di butterato c'è anche qui andiamo a vedere un attimo vediamo un pochino è dura quindi si è catalizzata andiamo a vedere cosa è successo ok ok dopo vado anche a pulire lo stampo visto che ci sono ok dopo vado a pulire lo stampo in modo che posso utilizzarlo per l'epossilica allora questo è il risultato vediamo allora i laterali sono venuti in questo modo qui cioè non è sono lisci e meno male solo sì solo questa fogliolina qui mi sa che ha dei buchetti vedete ci sono dei forellini invece il resto più o meno sono lisce queste queste colori qui sono credo che il pigmento che non ho miscelato per bene e poi sotto è fatto in questo modo adesso pensavo al limite per recuperarla di andare a limare questa parte qui e perché dentro è bella liscia non so se si nota e diciamo che i due colori si sono anche sfumate bene più o meno si sono sfumati bene per esempio in queste due punte sì in queste due mica tanto comunque diciamo che con questa resina ho dei problemini con la poliuretanica già mi era successo anche un'altra volta con dei cabochon che sul retro erano venuti in questo modo e invece poi davanti erano vabbè erano lisci e in quel caso lì credo che il problema sia il fatto di troppo colorante all'interno infatti di questi qui della rischimica della risin alta secondo me ce ne va proprio un pizzico cioè una goccia secondo me già è troppo per le quantità che ovviamente ho miscelato perché poi all'incirca per le colorazioni sono sempre stati 15 grammi di A e 15 grammi di B dicevo ha questo fondo orrendo quindi credo che andrò a limarla adesso però farò passare un giorno perché non lo so la sento ancora un po' appiccicaticcia sul fondo poi al limite ve la mostrerò in un video con altri esperimenti con la resina così vi mostrerò se sono riuscita a recuperarla o meno questa sorta di porta candele poi ovviamente questo stampo poi lo pulisco e lo andrò ad utilizzare con la resina epossidica della resin pro quella che utilizzo sempre niente ragazze questo è l'epic fail di oggi come vi dicevo prima questa resina la poliuretanica l'andrò ad utilizzare anche per l'altro video in collaborazione sempre con Be The Park in modo che la utilizzo la termino e non la ricompro più e niente scrivetemi le vostre esperienze se avete avuto esperienze con la resina poliuretanica questa qui della fil bianco della reschimica così ci scambiamo consigli e esperienze e per quanto riguarda il colorante come dicevo prima secondo me ce ne va proprio una micro 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 parte una goccia secondo me è anche troppo per questa per questa resina perché mi rendo conto che il primo strato e anche il secondo cioè il bianco e quello rosa chiaro sono perfette invece il problema è quando sono andata a realizzare il terzo colore con un po' di pigmento un po' di colorante in più niente io come sempre vi saluto spero che questo video sia stato di vostro gradimento un bacione e alla prossima con nuovi video ciao ciao